Benvenuto a MidoTV, al professor Luca Nava di Unipro. Come è nata la collaborazione tra CDV e Unipro? La collaborazione nasce proprio nello specifico sul progetto Sole Amico. Unipro, che è l'associazione delle imprese cosmetiche italiane, da sempre, proprio per le tipologie di prodotti che rappresenta, si occupa anche di promuovere, informare e comunicare sulle tematiche della prevenzione all'esposizione solare, per i prodotti che rappresenta, tra cui i prodotti proprio cosmetici di protezione solare. Quindi, conoscendo l'iniziativa di Sole Amico, immediatamente i due partner si sono incontrati, hanno trovato consonanza, hanno trovato sinergia sulle due tematiche, protezione oculare e protezione della pelle, e insieme abbiamo lavorato in partici su questo progetto. Quindi, com'è nato il progetto Sole Amico? C'era necessità di parlare di questo, di fare più informazione? Sulla protezione dai raggi solari, in termini di protezione della pelle e della cute, non si può mai smettere di parlare. I temi della prevenzione sono i temi che vanno comunicati in continuazione, non si è mai finito, non si è mai fatto abbastanza. Quindi, questa opportunità è una tra le tante altre iniziative che Unipro, in questi termini, svolge. Ricordo, ad esempio, recentemente un'iniziativa proprio con il Ministero della Salute, in cui insieme si è prodotto del materiale informativo distribuito nei punti vendita, farmacie e profumerie, proprio su quali sono i dieci, il decalogo della buona protezione dai raggi solari. Piuttosto che un'altra iniziativa di Unipro, che è un sito che si chiama ABC Cosmetici, proprio dedicato al consumatore, al cittadino, con un linguaggio molto accessibile al navigatore di internet di oggi, dove, tra le tante cose sui cosmetici, andiamo anche nel merito e nel dettaglio delle tematiche che riguardano i prodotti di protezione solare e tutte le tematiche collegate al rischio dell'eccessiva esposizione solare. Allora, in bocca al lupo per questa iniziativa e grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi. Arrivederci.